Piccoli alunni, genitori ed insegnanti si sono ritrovati questa mattina nel cortile della scuola dell'infanzia Spineto Montecampo a Castellaneta. Insieme, per una buona abitudine, grandi e piccini sono stati i protagonisti di un esempio di riqualificazione ambientale, piantumando armati di pala e rastrello, piante aromatiche della macchia mediterranea. Un'iniziativa volta a sottolineare l'impegno e la salvaguardia del nostro territorio, nata in collaborazione con l'associazione Vivi Natura e gli assessorati alla pubblica istruzione e dall'ambiente. L'iniziativa che stiamo portando avanti oggi a scuola si chiama Per Buona Abitudine. Vedremo coinvolti i bambini e i genitori nella piantumazione di alcune piante e ortaggi tipici del nostro territorio. Quest'iniziativa rientra nella giornata organizzata dall'UNESCO. Il DES ogni anno organizza la settimana dedicata all'educazione per lo sviluppo sostenibile. Quest'anno ricade dal 24 al 30 novembre. Il nostro progetto di quest'anno di ampliamento per l'offerta formativa è un progetto ambientale intitolato Ambiente pulito, il parco che vorrei. Questo progetto nasce dalla consapevolezza che l'ambiente nel quale il bambino vive tutti i giorni è proprio un contenitore privilegiato per decifrare e comprendere la realtà che lo circonda. Inoltre nasce anche dall'esigenza di promuovere proprio già da questa piccola età, già dalle nuove generazioni, una cultura sostenibile e rispettosa dell'ambiente in quanto bene comune che va assolutamente tutelato e sostenuto. Quindi un percorso educativo che si sviluppa intorno ai concetti di rifiuto, di riuso e di riciclo, partendo dalla conoscenza dei materiali che recuperati possono essere trasformati in oggetti di uso quotidiano.